Buongiorno ed eccoci in un nuovo video della vostra prof Marraffini. Questo video si riconnette direttamente al video lo stage e sfruttamento. Lo giro ora perché due settimane fa mi è capitato di conoscere Cece, l'autrice del podcast Non Volevo Diventare Grande, che vi lascio qui in descrizione e che mi ha invitata a contribuire al suo podcast ad un episodio del suo podcast in cui vuole narrare e riflettere sullo sfruttamento e i giovani che entrano nel mondo del lavoro. Quindi grazie a questa partecipazione ho avuto il link e lo sprint di girare questo video che mi stuzzicava un po' già da del tempo, appunto da quando ho girato il video lo stage e sfruttamento. L'unico problema è che questo video è dedicato alla scuola e agli elementi di sfruttamento legati al mondo scolastico come giovane insegnante. E' un mondo molto complesso, mi rendevo conto che il video che mi accingeva a girare era troppo lungo, avevo già provato a girare un video e sembrava non finire mai. Dunque in questo video vi racconterò solo un pezzetto delle mie esperienze e cercherò di far emergere alcuni elementi appunto legati al tema dello sfruttamento, al tema quindi non solo della precarietà di cui si parla molto in ambito scolastico a livello di supplenze e di instabilità contrattuale, ma c'è anche un aspetto di cui si parla molto molto poco che è l'irregolarità nei pagamenti. Ma partiamo dall'inizio e facciamo subito una premessa. Come si entra nel mondo della scuola? Questo video è dedicato a giovani colleghi ma anche a studenti che vogliono capire ad esempio perché un supplente non fa niente durante le sue prime ore, le sue ore di supplenza breve magari in una scuola. Bene, cominciamo da una premessa. Come si entra a scuola? Abbiamo tre strade. Il concorso che è appunto quel test che ci porta ad avere garantito il posto fisso, il posto di ruolo e all'interno del quale poi si vengono a creare situazioni veramente paradossali come ad esempio quando io andavo al liceo avevo un professore che si permetteva tranquillamente di fumare in classe e non poteva essere licenziato allontanato. Durante questi anni di insegnamento mi sono capitati casi in cui colleghi che sono andata magari anche a sostituire per tanti mesi si sapeva già che non sarebbero venuti per tutto l'anno in quanto da anni avevano il posto fisso in quella scuola ma abitavano a sud, la loro vita si svolgeva a sud in un'altra regione d'Italia e quindi non si presentavano mantenendo questa posizione agganciando sempre malattie e altri tipi di permessi. Quindi c'è il concorso che ti porta al posto fisso, un posto fisso che è praticamente inalienabile proprio, non si può in nessun modo venire licenziati da questo posto fisso. Seconda strada, questa seconda strada sono le graduatorie che sono in realtà l'anticamera del concorso, all'interno delle graduatorie si accede per titoli che danno un punteggio e vengono aperte ogni tot anni, anche il concorso viene bandito ogni tot anni, ovviamente io dico tot perché c'è molta insicurezza sulle tempistiche, c'è grande instabilità soprattutto adesso dopo la pandemia ma in realtà anche prima. Quindi seconda strada è l'anticamera del concorso che sono appunto le graduatorie, si accede alle graduatorie grazie ai titoli di studio e ad altri attestati che si possono avere e al punteggio anche dato per esperienza lavorativa, quindi chi ha più anni di esperienza in modalità breve precariato poi guadagna, aggiunge punteggio. E infine c'è l'ultima modalità che è quella proprio più base, più terra terra, che è la messa a disposizione, comunemente nota come MAD. La messa a disposizione è l'invio del proprio curriculum e di un breve documento che è appunto questa messa a disposizione direttamente agli istituti scolastici. È una strada che lascia in mano alle scuole la scelta del personale da inserire e le messe a disposizione vengono utilizzate dalla scuola solo nel momento in cui le graduatorie sono esaurite. Bene, fatta questa premessa vi racconto il mio, diciamo soprattutto il mio primo anno di esperienza ma anche un pochettino il mio secondo anno di esperienza attraverso l'utilizzo delle messe a disposizione, la MAD. Ovviamente è più facile riuscire ad accedere all'insegnamento per certe classi di concorso ed è meno facile per altre classi di concorso, quindi in base alle cattedre e alle lauree che si hanno è più o meno facile accedere. Nel mio caso la mia cattedra ufficiale sarebbe storia e filosofia ma ho insegnato durante il mio primo anno di insegnamento nella cattedra filosofia e scienze umane ed è stato quello un anno fortunato perché ho avuto una supplenza in realtà in modo informale alla fine a conti fatti annuale, in sostituzione di una maternità ma a livello contrattuale ho avuto i contratti rinnovati ogni 2-3 mesi all'incirca. Il mio primo anno di insegnamento avevo 5 classi, circa 120 studenti, 3 indirizzi di studio di una delle 5 classi, ero coordinatrice. Quell'anno è scoppiata la pandemia e ho dovuto anche gestire a un certo punto dell'anno la didattica a distanza. In questo contesto io appunto avevo questa modalità contrattuale di contratto breve perché avevo mandato le messe a disposizione, le famose MAD. Nei fatti io sono rimasta lì tutto l'anno ma poi concretamente la scuola non poteva assumermi, farmi un contratto per un periodo più lungo di quei 2-3 mesi che di volta in volta mi venivano rinnovati. Ovviamente al di là dell'aspetto contrattuale di precariato, quali sono gli elementi di sfruttamento appunto di cui non si parla mai? Durante il mio primo anno di insegnamento, dopo i primi due mesi di stipendio ricevuto regolarmente, ho iniziato a non ricevere lo stipendio, quindi si sono come accumulati in coda per l'estate. Io mi sono ritrovata da gennaio a dover pagare tutte le mie spese con lo stipendio del mese precedente e mi sono ritrovata appunto per due mesi, forse tre mesi, adesso non ricordo con precisione, senza stipendio. Quindi poi gli stipendi arretrati si sono appunto aggiunti in coda alla fine dell'anno. Un altro elemento molto curioso ed interessante è che agli insegnanti precari viene garantita, come a chiunque per dal lavoro a un certo punto, la possibilità di chiedere la disoccupazione per i mesi estivi, quindi luglio e agosto principalmente, ma un altro elemento di cui non si parla mai e che è fortemente legato al tema dello sfruttamento è quello dei ritardi o addirittura dell'impossibilità di ricevere la disoccupazione nell'anno in corso, cioè nei mesi in cui effettivamente non si lavora. Io ad esempio l'ho ricevuta l'anno successivo, quindi non solo durante il periodo di lavoro con i miei contratti di lavoro attivi, con la mia attività lavorativa ho ricevuto dei grossi ritardi nei pagamenti degli stipendi, ma poi durante i periodi estivi, quindi quando effettivamente non lavoravo, non ho ricevuto la disoccupazione, l'ho ricevuta l'anno dopo. Questi aspetti vengono spesso fatti passare per prassi dai colleghi o addirittura tracciuti, quindi non vengono neanche condivisi tra i colleghi, ma secondo me è un elemento importante di cui parlare, sono aspetti importanti da condividere perché non sono cose che dovrebbero essere considerate la norma, cose considerate appunto normali. Il mio secondo anno di insegnamento mi sono ritrovata all'incirca nella stessa situazione. Ho sostituito una docente che si sapeva sarebbe mancata tutto l'anno perché non insegnava realmente lì, era di ruolo lì, ma erano anni che lei non insegnava lì perché la sua residenza era in un'altra regione d'Italia. Dunque, il preside, il vicepreside sapevano che il posto sarebbe stato vuoto, vacante per tutto l'anno, ma io potevo avere solo dei contratti brevi, di nuovo per via di questa modalità della messa a disposizione e per via di questa situazione dove la docente in ruolo, in carica, mandava appunto i permessi, le malattie e tutte le giustificativi del caso di volta in volta, insomma di mese in mese, diciamo all'incirca, quasi di mese in mese. Dunque, la situazione si è ripresentata uguale. Io per mesi non ho ricevuto lo stipendio e poi d'estate mi sono arrivati i soldi del lavoro che io avevo svolto durante l'anno. Per chi si accinge a entrare nel mondo del lavoro, al di là del tema del precariato, che sicuramente è un tema molto forte e difficile da affronteggiare, da affrontare, un elemento che ci porta sicuramente a non riuscire a vedere con speranza il nostro futuro, giovani che entrano nel mondo del lavoro. Dall'altro lato però c'è anche questo tema del mancato riconoscimento del lavoro svolto e dell'assenza di questi stipendi che in realtà non si sa quando arriveranno. E questo è un tema di cui non si parla. Io vi racconto appunto ancora brevemente della mia prima esperienza appunto dove avevo cinque classi, circa 120 studenti, ero coordinatrice di una classe. Per essere una prima esperienza questo è un ruolo molto impegnativo perché essere coordinatrice di una classe porta a contatto con le situazioni più difficili. Nel mio caso avevo situazioni dove c'erano degli assistenti sociali, in altre situazioni magari in cui si parlava di assenteismo mi sono dovuta relazionare e confrontare su come gestire anche questa situazione, da segnalare all'autorità. Quindi avere il coordinamento di una classe il primo anno, avere molti studenti, dover gestire quindi poi anche diversi indirizzi, quindi tre programmi diversi nel mio caso, è sicuramente un carico di lavoro impegnativo che a fronte di una assenza di stipendio nel periodo in cui poi si sta effettivamente svolgendo l'attività lavorativa, è veramente scoraggiante. Quindi in questo video volevo condividere con voi la mia esperienza legata a questi ritardi nei pagamenti all'interno della scuola, un aspetto di cui secondo me non si parla e che quando ho sentito nominare è sempre emerso con un tono quasi di normalità, ma anche con delle risposte come beh ma cosa ti aspetti, veramente pensi di poter ricevere uno stipendio per il lavoro che stai svolgendo? La risposta è sì, veramente penso di poter ricevere uno stipendio per il lavoro che sto svolgendo. E qui si aprono tantissime riflessioni, tantissimi spunti di riflessione perché sono veramente infiniti gli elementi su cui veramente ci sarebbe da approfondire e riflettere. Però in questo video volevo soltanto appunto introdurre e iniziare a condividere con voi quello che è secondo me l'aspetto più grave all'interno dello sfruttamento del mondo del lavoro dei giovani che entrano nel mondo del lavoro all'interno dell'ambito scolastico dove c'è sicuramente un precariato fortissimo, è un elemento molto grave ma dall'altro lato per chi invia le messe a disposizione il fatto di ritrovarsi a non sapere quando riceverà lo stipendio è qualcosa di veramente schiacciante anche per quanto riguarda l'impegno poi da mettere, l'investimento da fare all'interno poi del lavoro e delle mansioni che si vanno a svolgere. Quindi chi magari si ritrova a fare un contratto breve di un mese e in classe non se la sente veramente di mettersi lì a lavorare io col senno di poi, dopo questi primi tre anni, posso dire di capirlo, di comprenderlo, di riuscire finalmente ad avere gli elementi che quando io andavo a scuola non avevo e mi chiedevo perché questi supplenti vengono in classe e non fanno niente ecco qua la risposta, se c'è qualche studente che sta guardando questo video penso che una delle possibili risposte sia questo perché in realtà non si sa quando si riceverà uno stipendio e quindi di conseguenza di fronte a questi orizzonti economici, di precariato, insomma di fronte a tutti questi elementi è veramente complesso poi riuscire a essere motivati nell'attività che si svolge poi in concreto concludo questo video sperando, augurandomi come sempre di avervi dato degli spunti di riflessione interessante se vi va ascoltate il mio intervento e l'episodio del podcast di Cece del suo podcast Non Volevo Diventare Grande e ci vediamo presto online con i prossimi video e buona giornata